Italiani volete sapere come ha fatto Ellie Schlein a vincere le primarie del PD? Facile, ascoltate bene. Alle primarie del PD hanno partecipato quattro candidati, Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e Schlein. Sono tutti e quattro politici scafati e di carriera. La Schlein è italiana con cittadinanza statunitense e naturalizzata svizzera. È stata un europarlamentare. In Italia è stata vicepresidente del Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna. La sua professione è segretaria di produzione cinematografica ma è laureata in giurisprudenza. Avendo forti legami con il Parlamento europeo ed essendo svizzera ha sempre avuto rapporti con persone influenti e con speculatori dell'alta finanza. Dietro alla sua vittoria c'è semplicemente Soros.